Prima il collegamento con gli FRS9 e lo standard risk management 31.000, poi percorreremo l'esperienza della BCE e le indicazioni della BCE riferite all'adozione degli FRS9 e quello che ci interessa capire è chi è stato avvantaggiato nell'adozione di questi standard e perché e quindi quali sono le caratteristiche dei modelli più avanzati di risk management. Poi parleremo di un esempio chiaramente di scuola, di modello errato che a noi serve però come riflessione. A questo punto torniamo alle indicazioni generali della BCE su quali criteri adottare per verificare se un modello è corretto. A questo punto affrontiamo le differenze tra i modelli di risk management e gli FRS9 e concludiamo con un esempio di intelligenza artificiale, ovviamente è soltanto un cammino di un esempio di intelligenza artificiale e parliamo alla fine di cyber risk che è estremamente connesso al problema dell'intelligenza artificiale. Ok, l'elemento che accomuna gli FRS9 e i modelli di risk management è il fatto che entrambi trattino di incertezza. Voi dite è una cosa scontata ma è il punto cardine da cui noi partiamo. L'incertezza degli FRS9 è dei flussi finanziari futuri e l'incertezza dei modelli di risk management è riferito al raggiungimento degli obiettivi. Questa è una delle differenze su cui ragioneremo successivamente. Questa è la relazione della BCE sulla situazione delle banche che hanno adottato gli FRS9. La BCE dice un dato intanto iniziale che l'impatto è negativo però è meno negativo per alcune banche e cioè sono le banche che hanno usato i modelli di internal rating based approach, quindi le banche che hanno usato i modelli di risk management più avanzati. E quali sono le caratteristiche di questi modelli di risk management più avanzati? Lo sapete meglio di me però ripercorriamo anche questo punto. Sono i modelli in cui la valutazione dei rischi è collegata alla valutazione della performance e quindi al pricing. Per fare un esempio molto molto terra a terra, se due business hanno rischi diversi il pricing deve essere diverso e quindi il manager di uno o dell'altro rischio non può essere premiato perché ha assunto maggiori rischi ma deve essere premiato se ha raggiunto maggiore margine. E questo ci serve, questo principio, per ricollegarci all'esempio sbagliato di applicazione sbagliata del modello che tutti conoscete bene ma mi interessa focalizzare quali sono gli errori. Ricordare perché tutti lo sapete meglio di me. Questa è una rappresentazione che Borsa Italiana ha realizzato nel 2007 in cui vuole spiegare i problemi che si sono verificati nella cartolarizzazione dei mutui subprime. Gli inserti rossi sono miei, non ripercorriamo tutta la strada ma solo due riferimenti ai modelli. Qui abbiamo un primo modello, quello che ha fatto il pricing dei mutui subprime e il pricing in questo caso ha recepito il rischio, quindi il pricing è stato più alto. Poi abbiamo un secondo momento, questo dopo la cartolarizzazione in cui alcune società di rating hanno dato invece un pricing tripla A. Semplicemente, questo lo aggiungo io però, è storia, hanno fatto riferimento al mercato, alla bolla immobiliare, hanno usato un'ottica in cui hanno guardato esclusivamente i dati storici, quindi backward looking e su quelli i dati storici erano in continua crescita ed è su quello che hanno fatto le valutazioni. Voi queste cose le sapete meglio di me, ma cosa mi interessa focalizzare? È questo, è il collegamento tra i due modelli. Il primo modello era corretto, il pricing era più alto perché il rischio era maggiore. Il secondo modello è quello che gli FRS9 dicono, mi raccomando non fate, non guardate soltanto, non usate soltanto un'ottica backward looking perché potrebbe essere fuorviante e su questo l'ABCE, quando vi ho detto verifichiamo le indicazioni dell'ABCE per vedere quali sono le caratteristiche per vedere se un modello giusto non entriamo agli aspetti tecnici di backtesting e quant'altro, quindi sono aspetti tecnici. Ma a me interessano gli aspetti, se volete più terra terra ma che sono i fondamentali. Ci dicono, mi raccomando guardate se ci sono dei cambiamenti legali o macroeconomici e quindi tenetene presente, usate un'ottica forward looking, non backward looking ed è esattamente quello che ci dicono gli FRS9. Fate attenzione se ci troviamo in un momento di inversione di ciclo perché anche questo è una cosa che dobbiamo tenere presente. Allora, e sono le stesse indicazioni che ci sono state date negli FRS9, però l'ABCE ci dice anche un'altra informazione e cioè ci dice per adottare questi principi contabili noi potremmo avere delle differenze, delle differenze rispetto ai nostri modelli di risk management. Allora volevo soffermarmi un attimo su quali sono queste differenze perché questo poi ci serve per il passaggio successivo. Un modello di risk management è un modello che serve per gestire il business, un modello, gli FRS9 sono dei modelli che ci servono per fare una scrittura contabile. Da questa differenza di finalità ne deriva una differenza enorme come risk appetite. Quando gestisco il business io necessariamente dovrò avere un certo livello di accettazione del rischio. Unica cosa, devo averlo deciso e deve essere quello che l'azienda ritiene accettabile e per le banche deve essere quello che anche il regolatore ritiene accettabile. Quando faccio una scrittura contabile in linea di massima il livello di risk appetite per errori materiali è zero. Non esiste un risk appetite. Quindi questa della diversità di finalità è la base della differenza di due modelli. Da questo ne derivano che ci sono due regolatori diversi, quindi due applicazioni diverse, due soggetti diversi che li presiedono, la scrittura contabile sicuramente CFO, i modelli di risk management potrebbero esserci un CRO, un GIF risk officer. Ma qual è l'anello più importante che dobbiamo tenere presente? E mi ricollego a quello che vi ho segnalato prima come errore di applicazione durante i mutui su prime. Questi due soggetti dovranno avere le stesse ipotesi di partenza, gli stessi parametri, cioè i modelli potranno essere diversi perché hanno applicazioni diverse. Ma la partenza è uguale. Quindi quando abbiamo detto che dobbiamo superare l'ottica di silos, superare il problema che si è verificato con la cartellizzazione di mutui su prime, è proprio perché questi due soggetti dovranno avere gli stessi parametri, le stesse ipotesi e poi potranno sviluppare modelli di tipo diverso. Adesso lasciamo un attimo gli FRS9 per addentrarci nei modelli per gestire il business e in particolare parliamo di intelligenza artificiale. Io vi ho portato, chi prima ha parlato ha detto una cosa molto importante, il cuore dell'intelligenza artificiale, l'inizio, sono i modelli predittivi. Questo è un esempio ovviamente da lì poi dopo si è evoluta. Questo è un esempio di una gara internazionale per un modello predittivo. Ovviamente ho messo tutti i nomi di società e quant'altro. La gara si è svolta un anno fa, quindi è una cosa molto molto recente. La società è una società di microcredito e il quesito che ha posto questa società è datemi uno strumento di rating dei soggetti non bancabili. Loro si occupano di microcredito e quindi soggetti che o hanno una cattiva storia creditizia o non hanno proprio la storia. Ecco, io vi ho fatto vedere questo esempio perché vorrei focalizzarvi su alcuni aspetti. Uno, i partecipanti, 7200 squadre, 8500 persone, hanno fornito a questa società 32.000 algoritmi. Tre hanno vinto. Ok. La cosa fondamentale è questa. Anzi, sono due. Uno, tutta questa gara si è potuta svolgere perché la società aveva a disposizione, aveva elaborato un certo set di dati. Dati interni della società, dati della centrale rischi e dati comportamentali. Adesso ovviamente la qualità dei dati è fondamentale e la quantità. Adesso mi volevo focalizzare sulle modalità. Tutti questi partecipanti potevano utilizzare un software open source, quindi non avevano limiti d'ingresso. Abbiamo visto che i partecipanti sono stati tantissimi. Hanno vinto, quindi un algoritmo l'hanno proposto, ma l'altro elemento fondamentale è questo. Quando si hanno i dati, normalmente queste gare si svolgono dividendo i dati in un training set e test set. Quindi il training set viene dato a tutti quelli che lo vogliono. Il test set è riservato. Sul test set si verifica l'efficacia del modello, cioè si calcola questo ROC, questo indice statistico. Allora, questo cosa vuol dire? Che mentre il calcolo della qualità della prestazione talvolta è soggettivo, in questo caso assolutamente oggettivo. Quindi l'importanza dell'intelligenza artificiale è il fatto di avere da questa descrizione, e siamo soltanto agli albori dell'intelligenza artificiale, poi le gare di intelligenza artificiale sono molto più articolate. Quali sono gli elementi quindi scarsi in questo contesto? Direi due. I dati e l'indice, l'algoritmo, l'algoritmo vincente. Quindi questo mi serve per focalizzarci su ciò che è critico nell'intelligenza artificiale. E qui ovviamente stiamo già uscendo dal fatto dell'innovazione. Questa è una fase applicativa dell'intelligenza artificiale. Ciò che è critico quindi sono degli elementi che sono attaccabili dai cyber. Sono elementi immateriali. Il nostro algoritmo e i nostri dati sono elementi che risiedono su un sistema informativo. E questo ci ricolleghiamo al tema del cyber risk. Il cyber risk sta diventando un rischio sempre più significativo per due momenti, per due motivi. Uno, il nostro business per essere competitivi dobbiamo rivolgerci a business sempre più digitalizzati e l'intelligenza artificiale ha come carburante i dati. È stato riscontrato che la competenza di chi elabora i dati è quasi meno significativa della quantità e della qualità dei dati a disposizione. Come abbiamo detto, quindi tutti i nostri nuovi modelli di business utilizzano dati. E questi dati risiedono in un sistema informativo. Lo stesso i nostri algoritmi risiedono in un sistema informativo. Questi sono dati che provengono da fonti sempre completamente diverse. Tutto l'IoT, mentre tutti gli device IP, quindi computer, eccetera, sono individuati e quando c'è l'accesso in rete c'è scritto il nome e cognome tutte le fotocamere, le telecamere non hanno l'IP, quindi possono accedere in rete senza essere individuate. Quindi la diversità di accesso, il numero di accessi rende, e mi ricollego alle problematiche della rete 5G, rende tutti questi nuovi business esposti significativamente a rischio cyber. A questo si aggiunge che la mancanza di vincolo territoriale. Gli hacker possono risiedere in qualsiasi paese, operare al di fuori delle reti nazionali e quindi essere molto più difficili da perseguire. L'investimento necessario agli hacker non è eccessivo. E quindi anche la criminalità nell'ambito cibernetico è più facile di altri tipi di criminalità. Ed è per quello quindi che il rischio cyber, che può essere gestito come tutti gli altri rischi, sta diventando un tassello significativo in tutti i processi di risk management. Perfetto.